Se anche tu sei alla ricerca della pozione magica, della ricetta miracolosa per finalmente dormire bene, ti invito a guardare questo video. Ciao a tutti, io sono la dottoressa Carlo Tagnavi, farmacista e naturopata, e oggi vi voglio parlare di insonnia, perché l'insonnia è un problema che colpisce circa il 30% della popolazione. Ma prima di entrare nel tema, se non sei ancora iscritto al canale, fallo subito, clicca qui sotto su iscriviti e attiva le notifiche con la campanellina che trovi di fianco, così ad ogni settimana riceverai la notifica del nuovo video. Come dicevamo, l'insonnia è una problematica molto, molto, molto comune. Purtroppo sempre più adulti utilizzano farmaci per dormire, allora ho pensato che potesse esservi utile un video in cui vi indico alcuni sistemi per favorire un corretto riposo notturno. Il sonno è un pilastro della salute. Non possiamo pensare di stare bene con un sonno interrotto, un sonno disturbato. Noi abbiamo bisogno di dormire. Siamo nati per mangiare correttamente, per muoverci e per dormire. Noi abbiamo bisogno del sonno per riparare i nostri tessuti. Durante la notte noi secerniamo un ormone, che è l'ormone della crescita, che ha proprio il compito di stimolare la riparazione dei nostri tessuti, del nostro fegato, del nostro cervello. Il sonno è un ottimo antiossidante del nostro cervello. Permette al cervello di limitare i danni che durante la veglia i radicali liberi gli hanno inferto. Quindi il sonno serve per non invecchiare. Noi dobbiamo dormire per poter stare bene, per essere giovani anche esteticamente. La pelle ha bisogno del sonno. Avete mai notato che quando ci sono periodi particolarmente stressanti, in cui dormiamo male, la pelle è la prima cosa che mostra chiari segni di deterioramento? Noi abbiamo bisogno del sonno per rimanere giovani e per rimanere anche svegli intelligenti. Perché il sonno permette una maggiore creazione di connessioni tra i neuroni. Più abbiamo connessioni tra i neuroni, più siamo intelligenti. Quindi non sono così convinta che il detto del chi dorme non piglia pesci sia così corretto. Dobbiamo dormire. Negli ultimi 50 anni si è visto che il sonno si è ridotto di circa un'ora e mezza, perché purtroppo le abitudini di vita proprio della società si sono modificate. Tutti i programmi interessanti spesso sono in prima serata, addirittura in seconda. Molto spesso sono in seconda. Quindi siamo portati a guardare magari la televisione fino in tarda serata. Questo automaticamente rovina il sonno. Siamo portati a lavorare perché dobbiamo lavorare sempre di più e quindi spesso ci troviamo ancora del lavoro da fare dopo cena. Ci portiamo i problemi a casa, le ansie. È un periodo anche particolarmente pesante, quindi i pensieri non fanno altro che ingombrare la nostra mente e modificare e rovinare il sonno notturno. Purtroppo l'insonnia, spesso quella iniziale, cioè la difficoltà nell'addormentarsi, è legata proprio a una situazione di ansia. L'insonnia centrale o quella mattutina, quindi i risvegli durante la notte o il risveglio precoce al mattino, spesso sono generati più da depressione che da ansia. Nel caso del risveglio precoce no, secondo me è anche ansia. Però ecco che sicuramente un buon equilibrio psicofisico ed emotivo è necessario per poter dormire bene. E noi dobbiamo ricordarci questa cosa qua, che il sonno è necessario. Se io voglio sapere se una persona sta bene o meno, gli chiedo come dorme. Perché? Oltre a parlargli dell'intestino e chiedergli come sono le feci. Perché il sonno ci dice molto. Il sonno è regolato da un orologio interno. Noi abbiamo dei ritmi nella produzione dei nostri ormoni. Gli ormoni vengono secreti in certi momenti, alcuni ormoni, e altri in altri momenti. Ed è tutto perfettamente organizzato. Se il sonno non è corretto, noi rischiamo di portare in disordine, di modificare questo orologio interno. Per fortuna c'è un sistema per resettarlo. Il sistema per resettare l'orologio interno, quindi far sì che ci venga sonno nell'orario giusto, perché, apro una parentesi, io spesso ai miei clienti dico che è molto importante andare a dormire presto. Perché il sonno dalle 10 a mezzanotte è diverso che quello da mezzanotte in avanti. Quindi noi dobbiamo andare a dormire il prima possibile. Fondamentalmente intorno alle 9 e mezza 10. E spesso i clienti mi dicono sì, però io a quell'ora il sonno non ce l'ho. Allora chiediamoci perché non abbiamo sonno a quell'ora. A quell'ora noi dovremmo avere sonno. Non ce l'abbiamo se il nostro orologio è completamente sfasato. Allora ritorniamo al come rimettere a posto un orologio sfasato. Prima cosa, noi dobbiamo far entrare il maggior quantitativo di luce attraverso i nostri occhi durante la giornata. La mattina, prima cosa, apriamo le finestre e quando usciamo cerchiamo di osservare il cielo, ovviamente non il sole direttamente perché rischia di danneggiarci gli occhi, ma cerchiamo di far entrare il maggior quantitativo di luce e fotoni attraverso i nostri occhi. Il fatto di far entrare la luce già resetta il nostro orologio e ci permette di avere sonno quando la luce non c'è più. Quindi questo è il primo trucco fondamentale. Devo osservare la luce durante la giornata il più possibile, almeno un minimo di due o tre minuti. Gli studi hanno dimostrato che chi ha osservato per dieci minuti la luce, ribadisco non direttamente il sole perché ci fa male, però ha migliorato il sonno di circa l'83-85%, ma nel giro di pochissimi giorni. Quindi è importante prima di tutto fare questo. Dopodiché, per non sfasare nuovamente l'orologio, da due ore prima dell'orario in cui dovremmo andare a dormire, dovremmo stare attenti a non esporci a luci blu. La luce blu, luce bianca, è una luce che ci attiva, che attiva il sistema simpatico, ci fa credere che sia giorno. Allora ecco che se noi, attraverso il nostro smartphone, il nostro tablet, il nostro computer, noi ci esponiamo a quella fonte luminosa, ecco che la produzione di melatonina, che è l'ormone del sonno, che noi produciamo in orario serale e durante la notte, viene modificata, si riduce, ma noi abbiamo bisogno del più alto quantitativo di melatonina che il mio corpo può produrre per addormentarmi correttamente. Quindi io suggerisco, dalle due ore precedenti all'orario in cui devo andare a dormire, di stare molto attenti. Ci sono delle applicazioni che permettono di limitare questa luce blu, alcuni cellulari hanno proprio un sistema integrato per cui io posso decidere che da un certo orario in avanti lo schermo diventa più giallino, oppure ci sono anche delle pellicole da applicare al laptop, all'iPad, a tutti questi aggeggi che limitano, che bloccano proprio i raggi blu. Se non voglio utilizzare le pellicole, sappiate che esistono anche addirittura degli occhiali che ovviamente non hanno gradazione, ma che schermano la luce blu, quindi la modificano. Sono degli occhiali che ci fanno vedere la luce più gialla. La luce gialla, calda, favorisce l'addormentamento. Quindi evitiamo di sfasare nuovamente l'orologio. Altro sistema per facilitare l'addormentamento e avere le routine. Una routine piace sempre al cervello, lo vediamo con i bambini. Se tu mantieni una certa routine con il bambino, il bambino è tranquillo. Quando si modificano le routine, sul bambino piccolo lo vediamo istantaneamente. Ma noi non siamo tanto diversi. Quando la routine è sempre diversa, il nostro cervello non è più organizzato per sapere esattamente che cosa deve fare. Quindi sarebbe una buona abitudine mantenere una routine sana e mantenerla in modo costante. Che significa che se io decido di andare a dormire alle 10 di sera, alle 10 e mezza, che sarebbe un orario perfetto, io nel weekend dovrei continuare ad andare a dormire a quell'ora lì. Perché se io nel weekend poi vado a dormire alle 3 del mattino, allora ecco che sfaso nuovamente tutto. E sempre nel weekend devo evitare di svegliarmi a mezzogiorno perché altrimenti nuovamente modifico. Se io cerco di mantenere sempre lo stesso numero di ore dormite, sempre l'orario di inizio, l'orario di fine similare, vedrete che nel giro di poco non avrete neanche più bisogno della sveglia per svegliarvi perché il vostro orologio è perfettamente tarato. E vi assicuro che svegliarvi senza sveglia è meraviglioso. Però mettetene sempre una di sicurezza perché fidarsi bene e non fidarsi è meglio. Ci pensa Anna? Ma ci pensa Anna? Sì. Scusate se vi ho svegliata. No, 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 per niente. Sono sveglia da ore. Però ecco, l'importante è avere un orologio il più perfetto possibile. E allora come dicevo, la routine per favorire l'addormentamento che cosa prevede? Se io mi rendo conto che arrivo molto stressato allora sarebbe una buona abitudine inserire delle pratiche che abbassino questo livello di stress e di ansia. Il nostro sistema nervoso autonomo si divide in sistema nervoso simpatico o orto simpatico e sistema nervoso parasimpatico. Il simpatico è quello che ci gestisce, gestisce i nostri organi interni nelle situazioni di attacco-fuga. Quindi è quello che si attiva al mattino grazie all'ormone cortisolo. È quello che ci permette di essere scattanti, pronti, di portare i figli a scuola alla velocità della luce, di andare a lavorare, di fare attività fisica, ok? La sera noi invece dovremmo attivare, facilitare l'attivazione del parasimpatico. Il parasimpatico è quello che ci permette di riposare, di rilassarci, di digerire, di avere un sistema immunitario forte, di memorizzare, ok? Quindi noi durante la sera dobbiamo facilitare questo. Se noi la sera ci mettiamo a fare dei lavori che ci creano ansia e attenzione, attiviamo il simpatico anziché il parasimpatico. E allora ecco che non digeriremo bene, il nostro sistema immunitario si rovinerà e non andremo a dormire. E il nostro sonno non sarà ristoratore se ci addormentiamo, piccola parentesi. Quindi noi dobbiamo fare tutto ciò che può aiutare ad attivare il parasimpatico. Quindi cerchiamo di abbassare le luci almeno due ore prima di andare a dormire. Non teniamo tutte le luci accese. Cerchiamo di creare l'ambiente consono all'addormentamento. La nostra camera deve essere ordinata, pulita, bella, accogliente, ok? Magari una buona abitudine è quella di mettere nel nostro diffusore a ultrasuoni delle gocce di olio essenziale, ad esempio di lavanda o di ylang ylang. Questi sono oli essenziali che tranquillizzano, tranquillizzano molto. Così come anche l'olio essenziale di camomilla blu, un altro olio essenziale che possiamo diffondere già durante la serata. Tutto questo ci attiva il parasimpatico. Così come ad esempio assumere un buon quantitativo magari prima di cena di verdure verdi a foglia larga ricche di magnesio e di potassio. Il magnesio e il potassio nuovamente favoriscono il rilassamento. Quindi ricordiamoci di creare l'ambiente adatto. Un'altra buona abitudine è quella di fare un bel bagno caldo, non troppo caldo, però un'oretta, anche un'ora e mezza prima di andare a dormire, non subito prima di andare a dormire, perché poi potrebbe anche attivarci un po'. Un'ora e mezza prima potrebbe andare benissimo e nel nostro bagno potremmo sciogliere anche dei sali di Epson ricchi di magnesio che hanno di nuovo quest'azione tranquillizzante e perché no aggiungerci magari l'olio essenziale di lavanda che stiamo anche diffondendo. Questo potrebbe essere una buona idea. Se non abbiamo la vasca possiamo fare la stessa cosa con un buon pediluvio, un pediluvio di acqua calda un'ora e mezza prima di andare a dormire in cui possiamo inserire qualche goccia di olio essenziale di lavanda. Ricordate, quando volete sciogliere dell'olio essenziale nell'acqua poiché l'olio e l'acqua sono immiscibili, mettete l'olio essenziale magari in un cucchiaio di latte e poi versate questo latte nell'acqua. Questo favorirà una migliore miscela dei due. Queste sono delle ottime pratiche come anche praticare meditazione, tecniche di mindfulness, visualizzazioni, la preghiera, tutto questo prima di andare a dormire crea una situazione, un ambiente interiore chiamiamolo così perfetto per l'addormentamento. Cerchiamo prima di andare a dormire di ripeterci pensieri positivi. Quello che noi pensiamo prima di andare a dormire ce lo ripetiamo durante la notte. Quindi se io vado a dormire con ad esempio le preoccupazioni per il giorno dopo prima di tutto è molto difficile che prenda sonno e poi sarà un sonno comunque disturbato da questi pensieri. Allora se sappiamo che abbiamo tante cose da fare e magari ci preoccupano un po', vi suggerisco di scrivere queste cose su un bel foglio prima di andare a dormire. Cerchiatele, evidenziatele, fate quello che volete ma mettetelo nero su bianco scritto a mano. Il fatto di averle scritte farà capire al vostro cervello di non dovervele ricordare in continuazione perché le avete scritte lì. Il giorno dopo prenderete quel foglio e inizierete la vostra to-do list, inizierete a fare tutto ciò che dovete fare ma quando è ora di dormire il vostro cervello deve essere tranquillo. Quindi ecco che il magnesio e l'olio essenziale di lavanda facilitano questo rilassamento mentale così come tutte le tecniche di meditazione attivano il sistema nervoso parasimpatico che è quello che dobbiamo attivare. Logicamente come dobbiamo evitare l'attività fisica serale per evitare di attivare il simpatico dobbiamo evitare anche tutte quelle sostanze che possono danneggiare il nostro sonno parlo ad esempio della caffeina il caffè purtroppo non tutti lo metabolizzano nello stesso tempo quindi se noi abbiamo un sonno disturbato prima cosa evitate di bere il caffè da dopo pranzo in avanti ok? Tenetelo soltanto nella prima parte della giornata perché magari siete dei metabolizzatori lenti non lo sapete e quel caffè voi lo metabolizzate in 8-10 ore ecco che quella caffeina che voi avete in circolo vi va a modificare a rovinare il sonno notturno quindi se proprio volete un caffè e per forza di cose dovete berlo prendetelo decaffeinato iniziate a provare attenzione anche all'alcol perché effettivamente l'alcol ha un'azione sedativa quindi vi tranquillizza ma il problema è che rovina il sonno quindi il sonno non è poi un sonno riparatore potreste svegliarvi durante il sonno quindi non utilizzate l'alcol come ipnoinducente perché non va bene e fate attenzione anche a degli errori spesso comuni allora quando si tende a non dormire prima cosa che si fa è fare una bella tisana di camomilla allora l'infuso di camomilla è un infuso particolare se non viene fatto con le dovute accortezze anziché farci addormentare ci sveglia allora prima di tutto l'infuso richiede l'acqua a temperatura di 90 gradi non 100 quindi io non metto la camomilla i miei fiori i miei capolini nell'acqua mentre bolle assolutamente no quando l'acqua arriva a bollizione io spengo il fuoco verso l'acqua in una tazza quindi aspetto che la temperatura un po' si abbassi e a quel punto aggiungo i miei capolini dopodiché devo cronometrare il tempo di infusione la camomilla non deve assolutamente rimanere in infusione per più di due minuti al massimo tre io consiglio i due minuti la camomilla con effetto rilassante deve essere un infuso dal colore molto chiaro ok non dobbiamo lasciarlo in infusione troppo troppo tempo perché altrimenti altre molecole del capolino di questo fiore verranno rilasciate nell'acqua e saranno molecole eccitanti quindi ci attiveranno anziché farci dormire quindi il segreto è la temperatura dell'acqua e il tempo di infusione ok quindi vi ho detto questa cosa perché tante persone mi sono accorta che magari non lo sanno e ingenuamente lasciano lì la camomilla per tanto tempo sperando che faccia più effetto e poi non dormono quindi è un piccolo errore che spesso commettiamo come dicevo però per avere anche il sonno nell'orario giusto io oltre a risincronizzare il mio orologio devo anche fare il giusto movimento fisico durante la mia giornata tutti i giorni io devo attivare il mio corpo noi siamo animali che hanno bisogno di muoversi quindi almeno un'attività moderata di 20-30 minuti che porti un aumento del battito cardiaco quindi un'attività aerobica basta una camminata veloce ballare quello che volete ma dovete aumentare il battito cardiaco di circa il 50% dovete attivare il vostro sistema se voi fate l'attività fisica corretta durante la giornata moderata ma tutti i giorni già questo vi garantirà un sonno ristoratore ve lo dico sono tutte cose che effettivamente non sono cose tanto strane ma spesso ce ne dimentichiamo le diamo per scontate oppure ci facciamo prendere da altre priorità senza capire che se il sonno non è sano tutto il resto non riusciamo poi più a farlo correttamente o rischiamo di ammalarci quindi queste sono cose a mio parere importanti e che devono essere sapute e ricordate soprattutto se poi oltre a tutto questo desiderassimo integrare qualcosa per favorire il sonno notturno quello che vi posso consigliare è sicuramente il magnesio sono alcune vitamine del gruppo B soprattutto la B3 e la B6 perché la B3 e la niacina hanno anche un effetto leggermente sedativo ma soprattutto perché il magnesio la B3 e la B6 sono cofattori per la corretta trasformazione del triptofano in serotonina se vi interessa il discorso della serotonina vi rimando a un mio precedente video allora noi dobbiamo convertire molto bene questo amminoacido il triptofano in serotonina perché sarà la serotonina che verrà poi trasformata in melatonina che è l'ormone del sonno quindi noi per avere un buon quantitativo di melatonina dobbiamo avere sicuramente un buon quantitativo di triptofano ma essere sicuri anche di convertire bene il triptofano in serotonina e allora non dobbiamo dimenticarci i cofattori quindi queste a mio parere sono le integrazioni più importanti da non dimenticare la melatonina la possiamo inserire se abbiamo paura di averne un quantitativo troppo basso ma non vorrei che l'idea di inserire la melatonina ci distolga dal fatto di inserire tutta questa serie di buone abitudini noi abbiamo bisogno della routine corretta di avere un orologio sincronizzato di stare bene e noi questo lo possiamo fare con tutti i metodi che abbiamo visto io spero che questo video possa esservi d'aiuto se così fosse mi raccomando condividetelo con le persone a cui volete bene e se vi è piaciuto non dimenticate un like di supporto io vi mando il mio più grande abbraccio e ci vediamo la prossima settimana ciao a tutti ciao a tutti